ciao ragazze sono il mio logo oggi c'è un nuovo video di un logo in casa e questo settimana due settimane non sono scelto i video non finisce di video pensatemi di fare tre video in questa settimana semplicemente non è un video non è un video non è un video non è un video eeeh 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 mi sto scattando i galli eeeh 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 quando indosso la tuta porto sempre 6 a casa eeeh 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 non credo capire in questo video voglio parlare che i nuovi giochi vi porterò sul canale e saranno eeeh novi giochi nel senso voglio ricominciare minecraft o diudy 2 che ne facessi state eeeh 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 che sono molto belle sono molto belle come avete visto adesso dalla foto conmesso sono molto belle eeeh che si può già scaricare eeeh o ragazzi che se vi vii piaciuto lasciate un like commentate iscrivetevi iscrivetevi al canale E a Instagram E ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi